Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, se non ci credete apposto ho messo la webcam per farvi capire come potete vedere ho collegato mouse e tastiera al game pass della xbox, il cloud se non ci credete allora facciamo anche così, eccolo qua, e visto? Stiamo sulla xbox ho sempre questi problemi con l'icona, come potete vedere ci vuole un bel po' per caricarsi, perché faccio così mi muovo ok, la freccetta va bene, l'icona sta ancora sullo schermo, un momento che si carica, ah eccoci qua, perfetto allora, ragazzi, funziona, funziona al 100% con questo programma che adesso vi spiegherò come fare sparare anche, correre anche, è un po' difficile perché il mouse, sto muovendo il mouse come se fosse la levetta, ok? ok, la levetta del controller, ok? ok, e niente, quindi eppure ci vuole un bel po' per e vabbè, possiamo anche uscire da halo e farvi vedere come ho fatto, ok? bene allora, devo solamente fare così esci dal gioco eh sì, esci dal gioco perfetto ok, allora ragazzi innanzitutto cominciamo prima a scaricare un'applicazione un'applicazione, aspettate che tolgo anche la webcam perché non ci serve più la metto dopo ok, allora, come funziona? in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo programma anche se è pagamento, vabbè, ti darà 14 giorni gratuiti ma se vuoi puoi anche craccarlo lo fai come vuoi tu io oggi vi spiegherò solamente come collegare mouse e tastiera alla Xbox Cloud come volete chiamarla Xbox Game Pass questa qua, ok? bene allora io adesso chiudo tutto ok non ci serve devo chiudere anche tutta sta roba chiudi Xbox, chiudi tutto perfetto allora io adesso avvio questa applicazione ok mi raccomando ascoltami con attenzione prendi appunti anche allora ragazzi allora come potete vedere c'è Halo Infinity che sarebbero i comandi quindi i comandi che vi spiegherò nel video più avanti come scaricarli quindi in questo caso cercate il vostro gioco sul sito che vi dirò e poi inserite questo settaggio di comandi in questa applicazione re-w-a-s-d ok allora cosa dovete fare se andate su questo più più community vi porterà sulla pagina ok sulla pagina di re-w-a-s-d e ad esempio scrivo un gioco quindi Halo Infinity Halo Infinity ok bene Halo Infinity mira beh l'assist con la mira e tanta roba per esempio un altro gioco che ne so un gioco tipo Battlefield quindi Battlefield ok e che ne so facciamo non so scarichiamo questo pacchetto pacchetto che ti permette di controllare aspettate un attimo che traduciamo pure ok ottimizzate il più possibile la massima sensazione del mouse quindi lo scarichiamo ok una volta scaricato eccolo eccoci qua e facciamo importa dal file quindi noi abbiamo scaricato come dire abbiamo scaricato un setup qualcosa per controllare il nostro gioco sulla Xbox ok ho messo il guanto della vittoria e adesso ritorniamo a noi iniziamo con calma con calma ok allora chiudete questa applicazione poi scaricate il settaggio quindi che sarebbe il settaggio quello del sito quindi voi non so inserite qualsiasi gioco io ho messo Halo Infinity ho cliccato su Halo Infinity vi uscirà questa schedina voi importate e qui vi dirà vabbè a me vi dirà già esiste quindi metto no e voi mettete sì ok ok in basso a sinistra fate attenzione inserite le periferiche giuste perché io ho fatto un casino e invece di mettere le mie periferiche ho messo delle periferiche virtuali che neanche esistono ok e quindi dicevo cliccavo 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 e non andava non andava quindi chiudo ok qui sotto accertatevi che le periferiche siano giuste quindi fate le vostre mettete la tastiera il mouse applica ok ok poi ecco non si muove più non si muove non si muove più l'icona perché 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 adesso il programma si è preso il mouse la tastiera per per la xbox quindi se vi succede anche a voi questo miracolo chiamiamolo così miracolo significa che state andando sulla strada giusta quindi ok io lo disattivo perché adesso non serve poi allora se per caso per caso qui non c'è niente c'è solamente un più voi cliccate su più importate di nuovo il vostro settaggio e cliccate alo beh cliccate il vostro gioco io ho cliccato alo infinity apri ok già esiste ok a me già esiste no quindi adesso che significa dov'è il controller eccolo qua allora tolgo sto cavolo allora iniziamo spazio sarebbe a quindi se adesso vado su halo adesso lo attivo ok voi non dovete fare nulla farà tutto il programma ok farà tutto il programma però se volete smanettarci un po' sopra e settarlo fate fate pure fate pure ok si è connesso e avvio halo ok ok allora questo non è bluetooth ok quindi non è che clicco qua e funzioni no se clicco spazio ah hai visto funziona funziona ok quindi tutto di nuovo campagna continua ok a me funziona io smanettato un po' su e non andavo non andavo non andavo però non mi sono arreso ho continuato e continuato fino a fare un ragionamento e ce l'ho fatta poi riguardo al problema del del mouse dovete solamente aspettare ok ci si ah perfetto fate così fate così lo spostate finché non si toglie la la freccetta eccoci qua ah ok un'altra cosa ragazzi io non ho mai fatto un giro completo perfetto senza sbagliare con il mouse non l'ho mai fatto questo giro completo guardate adesso lo faccio ok è perfetto il giro non l'ho fatto così l'ho fatto direttamente così ok visto come perfetto il giro perché perché è la levetta ok la levetta ecco qua perché sul mouse sul mouse mi ha dato r r r vabbè lasciamo stare allora r destra sinistra indietro avanti e l'ha posizionato qua ok è scomodissimo è scomodissimo però piano piano ci si abitua ok ci si abitua ok 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 quindi ragazzi se non avete capito scrivete nei commenti veramente è una procedura molto difficile veramente quindi smaritateci un po' su e vedete voi perché veramente sono arrivato al mio limite di spiegazioni perché io veramente con le spiegazioni so fare una cosa ma è anche un po' complicato far capire queste cose anche agli altri che non hanno mai fatto questo genere di cose quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione mi saluta anche il controller che non funziona sul mio pc mouse e tastiera come sempre sono i migliori e quindi lascia like iscriviti al canale se il video ti è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo video quindi ciao ciao